Oggi a Torre del Grifo è stato presentato ufficialmente il neo acquisto del Catania Matteo Pisseri. Dopo le parole del direttore ecco le prime dichiarazioni in rosso-azzurro del neo portiere. Il direttore è normale che sono emozionato perché essere il portiere del Catania per me è una grande emozione, un gran orgoglio e cercherò di raccogliere quello che non ho avuto finora con il Catania e sono sicuro che faremo delle grandi cose. Si è anche parlato della presenza di Vergara Catania che dovrebbe incontrare i dirigenti della Finaria. A questo punto lo Monaco si tradisce e parla della Finaria come della vecchia proprietà del club. A questo punto il dubbio è lecito, è già stato tutto scritto? Al termine della conferenza stampa ci si intrattene con il neo acquisto rossazzurro che ci rilascia alcune dichiarazioni. Sicuramente siamo sia io che il calcio Catania che tutta la città, la società siamo molto ambiziosi per cui daremo il massimo tutti insieme e spero di dare il mio contributo per ottenere grandi risultati. Io ho una grande responsabilità perché comunque rappresento una società importante, una tifoseria molto importante e questo sarà un aiuto in più che ci darà a me e a tutta la squadra. Io conosco solo Russotto, Bombaggi e Castiglia che hanno giocato con me in precedenza e poi li conoscerò tra poco quando ci sarà un raduno ufficiale.